Siamo a Tokyo per un vero e proprio viaggio nell'arte. La scena artistica di Tokyo è energica e vitale, perfetta per chi ha la ricerca di spunti diversi nell'immensa capitale giapponese. Il nostro viaggio comincia con l'incontro con Lee, artista giapponese conosciuta a livello internazionale che ha trovato la sua dimensione dipingendo sui muri. Il protagonista delle sue opere è il piccolo mostro Love, ispirato a lei stessa. Il mondo che avevo in mente era molto grande e per rappresentarlo in scala reale ho pensato che il posto più appropriato fossero i muri. Così ho deciso di iniziare con la street art. Ci immergiamo nell'universo di Team Lab, un collettivo di artisti il cui scopo è quello di eliminare le barriere tra arte e pubblico. Crediamo che la creatività sia qualcosa che non può essere spiegata con le parole, ma solo attraverso l'arte. Siamo al Mori Building Digital Tart Museum, a Odaiba, distretto di Tokyo. Qui l'arte si mescola con l'alta tecnologia. A Tokyo sono due i musei di Team Lab, Borderless e Planet. Nel Borderless alcune persone restano confuse, altre invece sono impressionate. C'è chi scatta foto per il suo Instagram. Noi non costringiamo nessuno, non ci sono risposte certe, un po' come nella vita. Il Planet è un'esperienza più immersiva. Bisogna togliersi le scarpe e restare a piedi nudi. È un'esperienza insolita e ti fa anche scoprire qualcosa nella vita reale. Ci sono un'esperienza in reale.